Serata di fiabe magia a Capodorlando, come in una favola sul palco di Piazza Matteotti, va in scena la sfilata danzante C'era una volta. Si tratta di una rivisitazione di storie e personaggi delle fiabe in chiave moderna, attraverso la moda con gli abiti di Anna Andreotti di Tour e la danza con le coreografie del gruppo Caledoscopio. Storie un po' capovolte e reinterpretate di principesse, principi, streghe ed eroi. Racconti fantastici rivisitati, allontanando gli stereotipi di genere in genere, momenti che invitano comunque alla riflessione senza appesantire la leggerezza dell'estate, musiche che suonano di risate e ricordi che profumano di brezza marina. Questo progetto nasce sull'onda dell'impegno sociale del comune di Capodorlando in collaborazione con il Centro Antiviolenza Pink Project e di Anna Andreotti Couture. L'obiettivo è quello di promuovere una considerazione sul genere e sugli stereotipi e i pregiudizi che troppo spesso connotano e definiscono i ruoli sociali delle donne, ma anche degli uomini. Attraverso la fiaba si racconta il mondo, la società e soprattutto si propongono modelli di pensiero e di comportamento. Non sempre è necessario indossare scappette di cristallo per essere delle principesse e ancora non tutto ciò che conosciamo poco o ci appare diverso da noi e dai canoni sociali comunemente accettati si rivela brutto o pericoloso. Il mondo magico delle fiabe rende tutto possibile, allora torniamo tutti bambini, immergiamoci nella fantasia per accostarci con uno sguardo nuovo alle fiabe classiche e ai tanti messaggi da queste veicolati per vivere una serata da favore.